Buongiorno a tutti, sono Margot di Sistema Project Italia, la nostra azienda si trova a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso e si occupa dal 1991 della produzione di lavastoviglie professionali dalla cesto 35x35 lavatazzine fino alla lavastoviglia cesto trainato. La sede logistica e operativa si trova a Castelfranco Veneto appunto in provincia di Treviso e abbiamo un'enorme flessibilità rispetto ai nostri competitors nella produzione e nella rapidità nelle consegne della merce. Buongiorno a tutti, sono Fabio, mi occupo della parte commerciale qua a Sistema Project Italia. Questa fiera Ost Milano stiamo presentando alcune novità per i nostri clienti. La macchina principale che sta avendo un po' più di successo delle altre è una macchina a capote con recuperatore di calore integrato, modello T1215 Energy Plus, recupera il calore, salva energia elettrica e costi economici, quindi un'impronta tutta incentrata sul green e sul risparmio energetico. Altri prodotti che stiamo presentando in questa fiera è un sistema osmosi per la nostra macchina di punta, modello unica, cesto 40, un osmosi che consente di contenere i costi al distributore. Quindi l'idea era appunto di restare sempre su un impatto green, ridurre costi, ridurre energia e lavare con poca acqua, il bene più prezioso che possiamo avere. Quindi un sistema osmosi che cerca di portare tutte queste caratteristiche e nel contempo anche essere accessibile a chi vuole un occhio di riguardo per il risparmio. Quindi una macchina di alta gamma, possibilmente alla portata di più tasche.